C'è chi scappa l'elicot... Vabbè, questa però è sfiga, eh Raga, che succede? Meno male ho avviato la registrazione E... Bella a tutti ragazzi, sono Adry, bentornati sul mio canale Mi trovo dove, tipo, non dovrei trovarmi Perché ho scelto Franklin per andare a salvare Grazie, sì Dovevo fare questa missione già la scorsa Due stelle di ricercato, ragazzi, mi pare veramente tanto C'è chi scappa l'elicot... Vabbè, questa però è sfiga, eh Questa è sfiga Vabbè, diamoci la gambe Raga, io dovevo andare a salvare dopo la missione scorsa Ho preso Franklin e mi stava lampeggiando Ho detto, fammi partire la registrazione E meno male che l'ho fatto Meno male Vabbè, scappare da due stelle, ragazzi Anzi, tre stelle Aumentiamo a caso Dai, dai, io gli è tanti su Poi con sta musica qua che ti manda un hype Dai, ci siamo, su, su Dai, ci siamo, su, su Come si corre questo volo, l'idea Ma come si corre È proprio grudoloso, là Il veicolo di Franklin Poi ti frena così Perfetto La valigetta è recuperata Ora, mi darai il 100%, vero? Non farai la pussy Intanto c'è sempre la solita canzone qua dentro Qua di Islos FM La divisione di corrupt government psychos Or, defeating one of the world's most complex security system Using our worthless-ass ninja skills, huh? Yeah Meany, meany, miney, moe If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up It'll be at night when most of the workers are off, you'll be at night when most of the workers are off, you'll mop the place and plant the bombs where we need them Seriously? I got a mop? Yeah, 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 you really do They'll clock you on the cameras if you're play-acting You'll also need a firetruck to show up in when the bombs go off and a getaway car stashed in a quiet place near the bureau so you can torch the truck and then get out The car doesn't have to be anything special, there shouldn't be any heat But what about the other way? With the ninja skills Now you choose that route, you won't be using the janitor's gear, but we had to cover all the bases Your FIB paymaster will have to provide you with a chopper and a pilot Now you fly way up above the building Ecco perché ha preso il tesserino, per pulire e poi per usare computer You need to be armed to the teeth, mind you, just in case the shit goes down Mopping or parachuting? Wow, you're making this choice really difficult The Haines has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission And the crew will be paid out of that We keep the change So, what's it gonna be? Ok ragazzi, adesso scelgo pompieri E poi ragazzi prepareremo il colpo anche nell'altro modo Intanto sceliamo pompieri e poi dopo ci allineeremo So you do want to mop, ok? Well, you'll need a couple of gunmen They'll go in with you as fireman Everything goes to plan They won't fire Vabbiamo 6% Daryl Jones Daryl, I'm not hearing great things to be honest But you just might be able to do this with him E poi Welch Welch should be ok He's got a few scores left in him This is a protected federal building Are you absolutely sure? This is how you want to take it And we have a winner I'll make the arrangements and call you when we're ready Alright, see it, hip You know, I'm still looking into that union depository gig It's real interesting But I don't know if we can do it without you know who As long as he can't do it without us Ok Bene 100% 8 secondi di fuga Ok Necessario il veicolo per la fuga Quindi è perfetto Vado a salvare E il colpo sarà senza Trevor Rindecal Che tra l'altro Anche il tempo ce lo suggerisce E va bene ragazzi Cercheremo poi la tua pompa Quando Sarà modo di Fare questa missione E ragazzi vi ringrazio Missione molto breve ma efficace Like al video Iscrizione al canale Ci vediamo alla prossima ragazzi Bacione E statemi bene C'è Grazie a tutti.